off screen mi sono rifatto tutto il percorso facendo la combo da 15 sui nemici ho preso l'oro punto fine dell'introduzione episodio 2 i dolori di un giovane eroe oh no che cosa c'hai crash c'hai le emorroidi oh no e in ogni caso ho sbloccato anche questa abilità qui che non mi ricordavo assolutamente e soprattutto a differenza di questa crash non prende il malus dal da rotolare il punto è che questa almeno possiamo fare il salto per annullarlo una sferzata di aura concentrata che ti consente di far fuori qualsiasi nemico con un colpo solo ottimo ma ma guarda un nuovo nemico ciao sono un tipo mammut orso non lo so colpisci mi stronzo penso io mi fa molto ridere la cosa ok come attacco speciale il mega rugito come colpo le zannate colpo caricato perfetto e la parata rimane fermo così è un gatto quando vede qualcosa che non gli piace e il vuoi un pezzo di prosciutto oh no in ogni caso è abbastanza lentino però fino a che ne abbiamo bisogno ce lo portiamo lo chiameremo carmelo lui è carmelo e ci aiuterà nella nostra impresa di riprenderci nostra sorella e soprattutto vendicarci di cortex e delle sue malefatte il lama ci hanno ma che strunzo ah ma l'ha bloccati io pensavo che il rugito facesse danno invece blocca solamente i nemici yes siamo arrivati a 15 ancora uno no volevo arrivare a 20 ti prego dimmi che il minimo era 15 non 20 vieni qua perfetto perdindirindina oh no sono scomparsi vabbè comunque rifacendo il livello non ci ho messo molto a salire di livello anzi ci abbiamo messo un cavolo ho fatto praticamente quasi tre livelli rifacendo il primo livello vi ho bloccati eh perduto delle scimmie cosa che ha detto delle scimmie? non ho capito vabbè non importa vorrei poter scattare vorrei un titano veloce sai che allora a parte il primo pezzo io di sto gioco non mi ricordo assolutamente nulla oh no carmelo ci dobbiamo salutare mi dispiace ti devo sopprimere sono morto vabbè potenziamento della scivolata come si fa la scivolata? cos'è la scivolata poi? come abilità? aspetta abbiamo appena sbloccato un'abilità che però in teoria ancora non abbiamo ottenuto può essere anche perché la scivolata non c'era neanche nella lista dei comandi quindi presumibilmente la sblocchiamo tra poco giusto? a proposito aspetta un secondo ok credo di averlo già messo in widescreen perché mi avevate detto di metterlo in widescreen io pensavo fosse già in widescreen visto che ma è un volpino che tra poco muore già mi dispiace per quel volpino ma che cattivo ehi stronzo tu sembri più grosso forse c'è più da mangiare se lui si chiamava uh Carmelo a te ti chiamerò Gaetano aia che ma dritto in faccia vieni qua oh ecco fatto tu sei Gaetano da oggi e vai finalmente posso correre veloce allora aspetta i comandi r1 quadrato modalità cecchino modalità tieni premuto r1 x per mirare più i versagli ah così no no aspetta ah così figata Carmelo e Carmelo Gaetano mi piace mi piace la tua abilità è molto veloce certo allora non sei per nulla utile mili però chi se ne frega giusto la velocità viene a compensare tutto il resto cioè ecco questo è l'unica cosa che non ti rende pratico aspetta vediamo se posso farlo mi ha annullato l'attacco vieni qua scusami se lo faccio senza mirare ah spara colpi a caso cioè li spara ma tutti dritti ok ok va bene ecco qua fai prima veramente a mirare che lanciare il colpo a caso non non mi dispiace questo mi è piaciuto crash colpisci quel bersaglio per far abbassare il ponte sai che ti dico allora prima di tutto aia che male basta sono morto è già morto perché continuate a colpirlo qualcuno lo fermi tu shiny vieni qua da me o no eh peccato puttanica che male peccato l'avrei preso volentieri lui mi piace quel colore cioè è bello anche viola però quel colore lì mi piaceva molto di più che poi mi sa che sono ispirati a delle iene questi nemici perché l'ho appena sentito ridere l'ho appena sentito ridere no Gaetano di qua perché come faccio a colpirlo se non posso che bello che non puoi passare bravo salto all'indietro ah ok questo come in super mario 64 tra l'altro vabbè Gaetano mi dispiace sono morta che bello abbiamo ottenuto un'altra vita ecco qua no aspetta ecco qua come si fa il salto all'indietro in ogni caso c'è di qualche utilità il salto all'indietro a questo momento no come faccio ad arrivare fino qua come sono morto no aspetta allora c'era una bambole fin là ok ma ho perso una vita o ho perso solo cioè ho perso la salute o ho perso una vita intera non ho visto mi sa aspetta crash che palle ok ce l'abbiamo fatta vieni qua era un salto un filo complesso niente che col giusto tempismo tu non possa fare però ecco qua allora uh eccoti buongiorno e addio al cesso di cort va bene probabilmente dovevo arrivare dall'altra parte per fare questa cosa addio al cesso di cort credo che tu possa saltare quassù salta con il tasto x poi spingi verso il muro e premi di nuovo il tasto x per saltare ancora più in alto per saltare rimbalzare ok allora facciamo così che faccio prima ecco fatto ok questo che cos'è il portale per il minigioco di questo livello già cecchini scandalo crash e distrugge tutte le bombe prima che nel tempo scada oh vieni qui orca troia che male allora aspetta hai rotto le e che cacchio tanto abbiamo perso quindi l'abbiamo perso perché quello là mi ha fatto distrarre stupidamente tra l'altro tanto se posso rifarlo lo rifacciamo velocemente ecco fatto allora perfetto allora ecco fatto non era difficile solo che al primo giro quello lì mi aveva distra mi aveva fatto perdere tempo di conseguenza non abbiamo vinto perfetto concept art ottenuto ci prendiamo questi sprizzoli di energia ecco fatto e Gaetano mi dispiace ma ti devo uccidere ecco fatto grazie dell'energia extra tra l'altro la scivolata che abbiamo potenziato come cavolo si usa in ogni caso l'importante è aver completato il livello già che ci siamo più che altro mi sa che a questo giro le combo necessarie erano 20 perché se non me l'ha dato col 15 vuol dire che che non basta cioè se non mi ha dato il re delle combo vuol dire che non bastava papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa no crash ma la porca di quella Perfetto, siamo arrivati A 30 combo Se non bastano queste Non so quante ne possano servire Ma mi sa che ne bastavano 15 Però forse non è uscita la scritta Forse esce solo la prima volta e basta Però mi sa che siamo arrivati a fine livello Boh, mi sa di si Vediamo Allora, 25 3 e Come? 45 Allora, era possibile farlo adesso In questa ultima fase Ma passiamo da 15 a 45 C'è un balzo enorme Va bene così Info del mega verro Il cecchino sbloccate Concept art episodio 2 La stanza dell'aura episodio 2 Abitita topo da laboratorio I gap A Grazie a tutti.